Salve a tutti ragazzi e ragazze trans e benvenuti su questo nuovissimo video Oggi siamo ritornati su Call of Duty Modern Warfare 2019 Perché volevo provare due cecchini di Call of Duty Che ultimamente mi stanno incurisendo molto Vi ho portato queste due partite che secondo me sono molto carine Siete buoni, ovviamente io non gioco con lo sniper Nooo Cioè ma sto cazzo di cecchino Ma come non l'ho preso Ma non, non spara, porco di... Nooo, sempre da dietro Quindi non lo so utilizzare, sto tentando di migliorare Ho sbloccato qualche accessorio da metterci Ma per adesso sono ancora un po' scarso Vi lascio a questo montaggio di due partite e niente Bene Ho sparato, dai Oh, il matchmaking di Call of Duty è una cosa che poi non mi piace insomma No Nooo 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 Ma questo è immortale, quanti colpi gli ho tirato Nooo 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 Ma come non l'ho preso Come non l'ho preso Porco di c***o Ecco ragazzi, come avete visto Non ho molto feeling con questi due cecchini Ma neanche con gli altri Vabbè, spero che vi sia piaciuto comunque il video Come vi ho detto tenterò di migliorare Non vi faccio vedere la classe solo perchè Non c'è una classe C'è proprio un cecchino messo lì alla c***o di cane Non ci stanno accessori né niente Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Daterli una bella venata Se volete condividete il video E noi come al solito ci vediamo Ad un prossimo video Bella Ciao